Un saldo negativo di 114,3 milioni di euro tra entrate e spese correnti e una probabile penalità che si aggirerà attorno ai 12 milioni di euro per lo sforamento del patto di stabilità da parte della vecchia provincia ed ereditato dalla città metropolitana. L'ipotesi è di una penalità del 20% sui 60 milioni sforati da Palazzo Isimbardi dalla passata gestione. Partenza decisamente in salita dunque per la neonata città metropolitana milanese che sarà praticamente impossibilitata a chiudere il bilancio 2015 in pareggio. Secondo le proiezioni infatti per il nuovo ente è previsto un saldo negativo tra entrate e spese correnti che sarebbe pari appunto a 114,3 milioni di euro a cui si potrebbe aggiungere la pesante eredità di quei circa 12 milioni dovuti al mancato rispetto del patto di stabilità nel recente passato. Inoltre in questo quadro negativo bisogna aggiungere anche le spese di 35 milioni per gli interessi sul debito ereditato sempre dalla provincia e di 15 milioni per i derivati. Questo debito accumulato, anche se tenderà a diminuire, avrà comunque un'incidenza anche per i prossimi anni. Non solo, proprio in base a queste stime il deficit per il bilancio della città metropolitana sembrerebbe destinato a peggiorare nei prossimi anni, arrivando addirittura a 163 milioni nel 2016 e a 212 milioni nel 2017.